Io mi porto a casa l'accoglienza ricevuta qua. Vi ringrazio tutti. A un anno. Per me è stato tanto. E quindi mi la porto a casa. Mi ha riempito il cuore. Quindi me la porto a casa e me la tengo stretta. Poi mi porta a casa la bambina che ho ritrovato qui. Che ha rozzolato, la vispa Teresa. Ha rubato la bandiera, l'avevo dimenticata, l'avevo persa. E poi mi porto qualche dolore in meno che forse ho lasciato qua e ho condiviso con voi. E tante cose su cui lavorare un po' più centrata, non più dispersa. Come quando sono arrivata, che ero dispersa, confusa. Una bandiera o una farfalla che sbatte in un barattolo di vetro. E di questo vi ringrazio a tutti. È stato un piacere. Grazie.